Quante ore al giorno dipingi? Eh, che domanda, bella domanda. Dipende da come sto. Certe volte nulla, certi giorni, anche 6-7 ore. Dipende dal periodo. Giusto, un'altra cosa, i salvagoccio brevettati che riportano le mie opere. Sono dei salvagoccio, si mettono sulla bottiglia, quindi l'idea è di fermare la goccia e far scorrere la propria storia. Quindi sono lavabili. D'arte noi che devi andare in greco. Si mettono sulla bottiglia e quindi non si sporca. Dai, se no.